Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna e in uscita a Firenze Scandicci nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla Firenze Mare e coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. In Fipilico e a tratti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci verso il capoluogo. In carreggiato opposto rallentamenti per lavori tra Santa Croce e Montopoli-Valdarno. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze segnaliamo che da quest'oggi, 2 marzo, inizieranno i lavori per l'installazione della porta telematica a protezione della corsia riservata in piazza stazione Lato Scalette. Fino al 4 marzo previsti restringimenti di carreggiata. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!